Salute e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come risolvere così il problema riguardo a Ghost of Tsushima che ha problemi riguardo a chiudersi, tipo quando andate ad uscire dal gioco, si blocca proprio la schermata e lì rimane, si blocca proprio tutto lo schermo quindi in questo caso se andiamo direttamente sul suo launcher prima di avviare il gioco, esce prima questo launcher, vai su opzioni andiamo su schermo, proporzioni 16 noni, modalità finestra, metti la finestra e il resto tutto basso come prestazioni oltre a FSR 3.0 MD attivo più potenziamento, MD FSR 3 frame generation, vai accetta, una volta fatto andiamo su avvia ecco il nostro gioco, quindi se non dovesse funzionare la parte della modalità finestra, tu tienilo così se devi giocare mettilo a schermo intero, se devi uscire dal gioco mettilo in finestra, tipo andiamo di nuovo su opzioni andiamo su schermo, in finestra, facciamo applica, facciamo sì ora proviamo a fare così una prova e usciamo dal gioco si blocca così lo schermo si blocca solamente il gioco ma non tutto lo schermo quindi andiamo su gestione attività, tasto destro sopra, qua su start gestione attività ecco il nostro gioco tasto destro sopra, termine attività aspettiamo un paio di secondi e si chiude il gioco la soluzione era questa per non far bloccare tutto lo schermo quindi se questo video ti è stato utilissimo su come risolvere questo problema su Ghost of Tsushima iscriviti, lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao 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 ciao